Bene, diciamo, su questo punto e sulla linea del contrasto alla pandemia non vedo neanche quelle incertezze, perché non è tutt'oro quello che luccica, diciamo, che ci sono su altri dossier. Vedi per esempio alcuni dossier economici. Il punto è molto semplice. Noi abbiamo riconquistato in questi mesi una certa normalità, ecco, di cui fa parte anche un certo recupero della socialità, del lavoro in presenza, perché poi, sai, la salute di un popolo sta anche nel recupero di alcune abitudini, di un certo benessere mentale, non stare tutti come degli alieni a casa davanti, diciamo, a un computer, poi migliorano anche i servizi, eccetera. Per fare questo bisogna vaccinare, vaccinare, vaccinare. Vaccinare chi ancora non si è vaccinato per paura, chi perché è ideologicamente contrario, chi perché gli sta scadendo la dose. E queste misure sono un gigantesco incentivo a vaccinarsi. Sono misure molto forti, eh. Attenzione, su cui... Ma non discriminano troppo i no-vax e così gli animi si inaspiriscono ancora di più? Questo, infatti, questo è una bella domanda, perché è una grande responsabilità quella che si è assunta, diciamo, il governo, forte di un largo consenso, perché il Paese finora ha seguito, ma che comunque possono, questo è nel novelo delle cose, anche, diciamo, alimentare una resistenza di un grumo più ideologico, così come possono, che è quello che credo io, incentivare alcuni scettici a vaccinarsi. E non c'è solo il Green Pass, eh, il Super Green Pass. Anche il Green Pass, il Green Pass normale è steso ai mezzi di trasporto. Poi mi si dirà, funzionano i controlli? Faranno dei controlli a campione, come abbiamo spiegato, speriamo che li faccia. Io credo, credo anche che non sarò smentito se dico che questo è un primo passo in una direzione che poi il Green Pass tenderà anche esso ad estendersi, se la situazione concreta lo richiederà, no? L'abbiamo visto col Green Pass normale, lo vediamo col Super Green Pass. Ma la cosa buona, insomma, di quello che, ieri Draghi ha fatto un discorso di verità, e i numeri sono questi. Noi oggi abbiamo 13.000 contagi, che sono il numero di fine aprile. Siamo molto meglio del resto d'Europa. Faccio presente che in Europa, in Olanda, stanno chiedendo di utilizzare le terapie intensive della Germania. La Germania sta, peraltro, spostando i suoi ammalati in altri paesi. In Italia siamo molto meglio, e arrivare a quel punto, diciamo, non è che se si satura la Calabria possiamo chiedere le terapie intensive del Marocco, ecco. È bene non disperdere, come ha detto il Presidente del Consiglio, diciamo, quello che si è acquisito. E lo ha fatto anche con uno spirito, anche di una forza tranquilla. Vedi, lo Stato non è una minoranza che si contrappone alle altre. Lo Stato deve seguire l'intervento.